Noi siamo stati sempre vicini, ci siamo sempre stati l'uno per l'altra e ci amiamo per i nostri difetti e non soltanto per i nostri pregi e abbiamo imparato a conoscerci. Noi due per esempio abbiamo proprio un modo molto diverso di affrontare le cose. Io per esempio sono molto più espansiva, ho bisogno anche nei momenti difficili comunque di fare, di agire, di compartecipare, di vivere insieme. Silvio non è così, Silvio è più riservato, ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno dei suoi silenzi, bisogna anche imparare ad accettare che ognuno di noi ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno di essere proprio rispettato per quello che è. Io di lui amo tutto, amo i pregi e amo anche i difetti, amo tutto, mi piace tutto di lui, per cui credo che questa sia un po' la chiave. Grazie.